Con Marchisio esce Resaltis in piena sicurezza, presa pastica e pallone ribattuto dentro a cercare la Vezzi e insegue il pallone, disturbato da Grossa, ancora la Vezzi, controlla la palla, evita l'avversario si fa vedere Amosic, scatta la Vezzi, centro-dente, delante Poggio, delante, per Amosic, tutto regolare attenzione, sottoporta, di testa ed in rete, si confia la rete, si confia la rete, si confia la rete Cavani, Cavani Matador, Cavani Matador, ci vuoi tutti stecchiti morti, ci vuoi far battere il cuore fino a farlo scoppiare, ma delante Napoli, Amos, Matador, 3 a 0, 3 a 0, la triplenta di Cavani, sei con di noi, avanti Napoli, stai schiettando la Juventus, stai mettendola al tappeto, umiliandola, addirittura umiliandola, guardate qui Cavani, il colpo di testa in tuffo del Matador, e sono tre, e sono tre, tutte con la stessa firma in calcio del Matador Cavani il nostro grande giustiziere divino, il messia in terra che sta facendo volare il Napoli e sta umiliandola, Juventus, annientiamoli, annientiamoli, avanti Napoli, non fermarti più, quanti ne puoi, fanne, quanti ne puoi, allontana il pallone in palo laterale Maggio, 3 a 0 per il Napoli, triplenta la prima in questa stagione del Matador Cavani, 3 a 0 per il Napoli.